E allora benvenuti all'ultima sessione annuale del ciclo Mid the New Italians e con grande piacere che questa sera apriamo le porte del Consolato a Parchevinus 690 alla folla dei nostri amici, vecchi e nuovi amici, per una nuova sessione dedicata, dopo quelle che abbiamo fatto di grandissimo successo, agli avvocati, ai dottori, da ultimo a quella della cucina, oggi passiamo alla musica. Un appuntamento che era molto atteso, molto richiesto e che ovviamente siamo felici di ospitare in una città come New York dove la musica New York sono due realtà, due essenze completamente inscindibili. Voi sapete la quantità qui di locali, di produzione musicale, di concerti, ma anche credo la quantità di consumo che si fa al giorno attraverso le cuffiette di musica New York che non credo abbia uguali in nessun'altra città del pianeta. Non so se ci sono già dei calcoli statistici, Roberto, però è... Sicuro è la città più musicale del mondo. Dal subway, i parchi, la gente in macchina è la città più musicale del mondo. Oggi abbiamo, io ringrazio moltissimo Roberto Macinelli che ha molto contribuito all'organizzazione di questo panel, che è un panel molto articolato, molto ricco e che sono sicuro farà... dal quale scaturirà un bellissimo confronto. Vi presento tutti, allora Roberto Macinelli, per molti di voi non ha bisogno di presentazioni, è quello che in italiano si definirebbe un discografico, un operatore polivalente del mondo della musica che ha avuto già un percorso pieno di riconoscimenti sia in Italia, che qui a New York dove si è trasferito qualche tempo fa e che ne avrà ancora, sono sicuro, tanti altri. Io lo spero, sì. Se mi vorranno. Ha un grande futuro dietro le spalle e davanti le spalle, come si dice. Poi vi presento Enzo Capua, un'altra leggenda, rappresentato negli Stati Uniti di Umbria Jets e forse il massimo esperto italiano di jazz qui nella città di New York. Poi Fabrizio Sotti, che è produttore e chitarrista jazz. Roberta Di Mario, che è un affermata pianista e ci scusiamo ovviamente che non c'è il piano, ci attrezzeremo per le prossime occasioni. Adriano Clemente, che è un sound designer, produttore, che lavora all'incrocio tra le discipline della musica elettronica, della tecnologia e poi ci spiegherà tutto questo mondo che non è un mondo avvenilistico del futuro, ma è presente per certi versi già del passato e ci dirà bene quello che fa. E Marco Pontini, che è il direttore generale marketing di Radio Italia. Che si collegherà su Skype e fra poco, sì. L'Italia non ha bisogno per tutti voi che siete spesso in Italia di presentazioni, è la radio che sostiene di più la musica italiana, credo che faccia solo musica italiana per definizione, per statuto e quindi siamo molto contenti che qua in questa che noi sala riunioni chiamiamo Piazza Italia di New York ci sia anche una finestra aperta su Radio Italia. Credo che in questo dibattito, a cui contribuirà molto anche Marco Cappelli, il compositore che ho appena presentato, ci sarà l'occasione per fare un confronto come siamo soliti fare in questo Meet the New Italians in maniera molto pratica, pragmatica, in cui sicuramente emergeranno le luci, le sfide, anche le ombre di una vita musicale, da un percorso musicale, una carriera musicale da affrontare fuori dall'Italia a New York. Credo che la formula di successo e di interesse di questi dibattiti sia proprio quella di non nasconderci niente, di farlo in maniera molto poco poetica ma con molta prosa. Per questo ciclo di incontri, io non lo faccio ogni volta ma lo faccio anche questa volta, voglio ringraziare in maniera speciale tutte le consoli, la squadra del consolato perché il concept di questo Meet the New Italians è stato loro, c'ha ormai un anno il ciclo, è un ciclo di grande successo che si muove attorno a tutte le varie professioni e così tanto il successo che è stato imitato e preso ad esempio da altre ambasciate sedi diplomatiche, da ultimo a Berlino in Germania per fare una cosa simile, quindi ci fa molto piacere che New York anche in questo caso sia all'avanguardia sia leader. L'anno prossimo continueremo con ancora più intensità questo ciclo e già posso insomma preannunciarvi che ne faremo uno dedicato alla moda e uno allo sport in periodi, insomma nei primi mesi del 2017 vi terremo aggiornati. Passando allora poi ad una serie di, cioè concludendo la serie di ringraziamenti, volevo ringraziare anche il piccolo caffè che poi ci offrirà il momento del rinfresco che è una parte essenziale di questi incontri Meet the New Italians perché è la parte del networking e dei contatti. E poi da ultimo ultimissimo ci sarà proprio adesso una piccola sorpresa, un video girato in maniera diciamo contemporanea con un cellulare da un paese che vedrete, da un grande amico di New York, da un grande cittadino italiano di New York che è stato... ecco insomma adesso parte, non vi anticipo niente, è un saluto che ha fatto speciale per questa serata. Mi trovo ad altre latitudini, come vedete insomma non sono a New York, anche qua, volevo salutarvi e augurare a tutti voi il bocca al lupo, so che oggi siete lì a parlare di musica, musica a New York, di opportunità di lavoro e di sviluppo della vostra attività di musicisti o di operatori del settore musicale a New York, io insomma ultimamente ci sono stato molto, gli ultimi quattro anni ci sono stati assiduamente, ho infilato le mani dentro la bestia della musica americana, quello che posso dirvi è che New York è la capitale mondiale della musica, quindi il vostro apporto alla capitale mondiale della musica chiaramente è molto difficile perché è una città satura di musica, ma quello che potrete trarre invece dalla vostra esperienza di vivere a New York sarà molto importante perché è una città che è fatta di musica, è costruita di musica, i migliori musicisti del mondo sono lì le migliori opportunità, in quanto italiani se siete cantanti lirici avete sicuramente delle possibilità in più, se siete musicisti classici altrettanto, per il resto diciamo che il mercato dell'hip hop e del rap è abbastanza saturo, è anche quello del jazz, è anche uno del rock e rose, è anche quello del pop, ma sai com'è? Nella vita i miracoli non sono mai impossibili, quello che posso dire è che l'esperienza vale veramente la pena, quello che gli americani cercano è qualcosa di diverso, è un popolo, è un paese, è un mercato affamato di novità, affamato di personalità, affamato di idee perché se fra di voi ci sono persone che hanno una di queste cose insomma vi andrà molto bene e comunque sarà una bella esperienza. Io vi auguro buon Natale e il meglio a tutti voi. Ciao! Ecco su questo spunto che può essere già uno stimolo per la discussione, Roberto ti do la parola, grazie ancora, buona serata a tutti e buon dibattito. Grazie. Noi abbiamo previsto, grazie innanzitutto, grazie alla parola, grazie a tutti voi di essere venuti, io sono molto contento di questo incontro perché come operatore del settore da anni mi batto per dimostrare l'importanza appunto della musica che forse e soprattutto nella cultura italiana molto spesso viene un po' considerata una disciplina, non dico di serie B ma molto spesso chi lavora nella musica come me da sempre e come operatore del settore ma credo di poter parlare anche a nome dei musicisti, c'è sempre un po' questo sentimento un po' come se noi giocassimo un po' e i mestieri veri sono altri. Invece spero che da questo dibattito poi verrà fuori anche la complessità del nostro lavoro che molto spesso è legata a dinamiche non così evidenti ma che in realtà sono faticose e spesso coinvolgono appunto l'emotività visto che è quello che noi spesso vendiamo e che ci affatica molto ma che ci rende anche molto felici. Insomma visto che possiamo dire con una certa felicità che siamo fortunati perché viviamo poi della nostra passione, spesso bene, fortunatamente almeno parlo per tutti noi che siamo qui. Da scaletta noi abbiamo previsto adesso un video di Radio Italia che mostrerà un evento che si tiene a Milano ogni anno con grande successo che è il concerto appunto che viene fatto in Piazza Duomo. Lo spunto per vedere questo video è che insieme a Marco Pontini col quale ci collegheremo poi via Skype, in realtà stiamo lavorando e anche con il contributo di Isabella Periotto, devo dire, in sotterranea alla possibilità di organizzare anche a New York un evento simile, un concerto non delle dimensioni che vedremo nel video ma speriamo abbastanza simile. Ci stiamo organizzando perché tutto possa accadere, si spera, per la prossima estate. io ho fatto un passaggio in Italia per qualche settimana fino a ieri e ho contattato un po' degli artisti che vedrete anche nel video sembrerebbe, incrociando le dita, che ce la faremo presto speriamo prima dell'estate però insomma anche qui le complessità sono molto più profonde di quello che può apparire. se puoi procedere col video meravigliosa è l'evento che fa tremare le piazze un'energia unica e inimitabile tutto il meglio della musica italiana live sul solo palco Radio Italia Live il concerto il meravigliosa il meraviglioso 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 le ultime inspecchi i grandi successi diretti inediti con i più grandi artisti della musica italiana Milano! Milano! Dove? 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 Fuori città Fuori città Tutta la stravolgente intensità dell'orchestra filarmonica italiana del maestro Bruno Santoni. Il più grande evento di musica live italiana offre ai suoi partner un mese e mezzo di comunicazione on air, un'esposizione off-field senza precedenti e un grand sentiment con da giù per tutti. Giunto alla sua sesta edizione, Radio Italia Live il concetto è pronto a studiare ancora, perché non è un solo, è tutto l'anno. Ecco, questo è ovviamente l'evento che si tiene a Milano con quasi 100.000 persone in Piazza Duomo, noi speriamo di fare almeno il 30% qui. Buona parte degli artisti hanno appunto aderito all'idea di rappresentare l'Italia con la collaborazione di Radio Italia e speriamo del Consolato. Qui a New York stiamo trattando con il Lincoln Center, vediamo cosa si riuscirà a fare. Però la macchina è partita, speriamo bene. Magari adesso ce lo facciamo spiegare da Pontini che dovrebbe essere, se non si è addormentato, a Milano. Perché insomma l'abbiamo testato prima, non era proprio sveglissimo. Vediamo un po'. Lui purtroppo non ci vede però... Ah, fa partire la telefonata, sì. Siamo un accrocchio... Il primo è andato male, vediamo se ne... Sono le due quasi. Sono le due quasi, lui mi sa che... Vediamo se ci sente da Skype. Vediamo se mi sa che dorme già. Marco? Ecco, sento il suo Skype collegarsi. Mi senti? Sto collegando. Ti stai collegando. Mi sento. Sei davanti a un sacco di persone, non dire cose... Non dire cose di cui potresti pentirti. Attenzione. Adesso vediamo se ti vediamo in video. Abbiamo appena parlato del video di Radio Italia. L'abbiamo mandato in onda. Siete i primi a vederlo. Siete i primi a vederlo, molto bene. Aspetta che... Però non ti vediamo sullo schermo, non si sa perché non ti colleghi. Perché due volte è andata giù. Riproviamo. Riproviamo. Sta squillando in realtà. Perché non ci rispondi? Stiamo antipagno. No, non ti... Sai che squilla ma poi va giù. Com'è? Prova a chiamarci tu. State paziente, eh? Ci arriviamo. Sento... Mi sto chiamando. Io ho il microfono... Ecco. Niente. Facciamo così, facciamo live su WhatsApp e ho il microfono qui, così almeno ho l'opportunità di salutare tutti. Io ho spiegato del nostro progetto. Va bene? Fantastico. Va bene, via. Io ogni tanto provo comunque a videochiamare. Va bene, intanto sei on air. Vai pure. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Come sapete qua è notte, ma per voi non è così e siete solo metà giornata. No, grazie per avermi chiamato, ringrazio il Consolato e Roberto per questa opportunità. Mi spiace degli inconvenienti. La tecnologia è una gran cosa, ma non sempre è di supporto. Io ho appena raccontato, Marco, che appunto stiamo lavorando nella direzione di organizzare il bellissimo evento che fate a Milano, anche a New York, con le debite e proporzioni. Speriamo bene, insomma. Speriamo di farcela per l'estate. Certo, è ancora tutto da… il desiderio ci sarebbe, anche perché nel DNA di Radio Italia e di Mario Volanti che l'ha fondata 35 anni fa c'è proprio il desiderio di portare la musica italiana a chi l'ama, in Italia ma anche nel mondo, sempre attraverso un concetto di gratuità, quindi è fondamentale nel DNA della radio. Giusto due parole per dirvi, vado veloce perché chiaramente essendo una call non vorrei ammazzarvi di noia, ma velocemente due parole per dirvi che sono e da dove arrivo. Io ho sempre lavorato in ambito musicale perché ho iniziato a lavorare quasi sempre con grandi imprenditori illuminati, tra virgolette. Prima con Claudio Cecchietto a Radio Capital, era appena uscito da Radio DJ, aveva fondato Radio Capital, un'esperienza molto affascinante con tante star anche attualissime, da Fiorello a Giovanotti, da Amadeus, Luca Laurenti e tanti altri. Dopodiché sono andato invece a occuparmi di eventi di radio, quindi per RDS Radio Italia e altre radio. Poi sono approdato invece alla gestione di Venio, perché andai a fare il direttore generale del gruppo Forum Net e quindi gestì alcuni dei più grandi palasporti d'Italia, Milano, il Forum, Roma, il Palauro, riaperto come Palauottomatica, Pesaro, Bologna e Livorno. Per poi tornare al primo amore, quindi la radio, quindi con il ritorno a Radio Italia, dove sono mai fermo da 11 anni perché troppo bene. Con successo direi. Cosa? Con successo. Non lo so, speriamo. Non lo dico io. Sicuramente mi trovo molto bene con l'imprenditore che è realmente un imprenditore illuminato, una persona appassionata innanzitutto della musica e del suo lavoro. E alla domanda che mi facevi te Roberto in giornata, qual è lo stato di salute della musica, direi ottimo, anche se musica sicuramente in questo momento richiama idee contrastanti, apparentemente in contraddizione, perché se guardiamo la possibilità di suonare, di condividere, di ascoltare la musica, la musica non è mai stata probabilmente in salute come adesso. La possibilità di suonare musica, di condividerla con chi non si conosce, ma anche con chi non si conosce grazie alle tecnologie quando funzionano e anche di ascoltarla, è realmente allargato le potenzialità della musica e le ha resa più accessibili a tutti. Certo il business della musica, così come era fino a 10 anni fa non esiste più, è cambiato tutto, questo è ovvio e evidente. Ci sono processi di concentrazione fortissimi, ma anche esperienze di chi ha saputo innovare e mettersi in gioco e anche quindi rischiare che fanno scuola. Quindi se vogliamo, io direi che la musica è in ottima salute, il modello di business legato alla musica, i modelli di business legati alla musica vanno riconsiderati. Se guardiamo al nostro, parlo di Radio Italia, della radio, almeno in Italia, è particolarmente sfidante perché anche qua in Italia ci sono state grandi concentrazioni, anche sulla radio. Noi siamo tra i pochissimi ancora indipendenti, Radio Italia è un imprenditore che 35 anni fa ha avuto un'idea e ha rischiato su questa, ma l'idea che fece nascere Radio Italia è ancora viva al 100%, che è quella che dicevo all'inizio, l'idea di regalare la musica, ma gratuitamente, non facendola pagare a chi ne vuole fruire, ma facendola pagare a chi può sostenere il progetto e quindi ai clienti che investono in pubblicità senza gravare sugli ascoltatori. Questa cosa ancora oggi per noi è attualissima, le tecnologie non ci hanno ucciso, ma anzi hanno dato l'infa vitale perché oggi per una radio che vive di musica come noi, tutto il mondo digital e social sono centrali. Radio Italia ha puntato tantissimo in questi tre anni sul social e infatti Radio Italia è la radio che ha i numeri più importanti sui social network, quindi su Facebook siamo l'unica radio che ha superato i 2 milioni in Italia, di amici, ne abbiamo 2 milioni e 400 mila. Adesso è tempo di allargare con gli amici italiani qui a New York, mi sa, che dici? Assolutamente, anche perché siamo chiaramente forse l'unica radio che ha, come dire, una quantità di fan anche dall'estero, che cercano la musica italiana e la trovano in noi, più difficilmente vanno a cercare altre radio, salvo magari appunto rapporti d'affezione storici, chi è nato e cresciuto ascoltando una radio, anche se all'estero ovviamente rimane attaccato a quella, ma chi invece non ha mai approcciato la musica italiana o la radio italiana è più facilmente si avvicina a noi, questo è un vantaggio competitivo per noi ovvio e forte e vogliamo valorizzarlo, quindi la prossima frontiera per noi può essere proprio questa, allargare gli orizzonti e provare a fare qualcosa di importante anche altrove, dove, se non meglio di New York. Assolutamente, c'è una bellissima comunità, tu non la puoi vedere, ma una parte è qui stasera e aspettano appunto di vedere il nostro evento presto. Grazie Marco, noi ti lasciamo andare a letto, visto che in Italia è molto tardi e procediamo con gli altri panelisti. Grazie ancora dell'intervento. Grazie a voi tutti e buona giornata e un ringraziamento al console e a tutto lo staff del consolato. Grazie, ciao Roberto. Un applauso virtuale per te. Lo senti? Vi ringrazio, un saluto dall'Italia. Ciao a tutti. Buonanotte, grazie. Ciao, ciao. Benzo, ce l'abbiamo fatta in maniera un po' bizzarra, ma ce l'abbiamo fatta. Isabella, procediamo con le singole esperienze. Chi vuole partire? Chi alza la mano come a scuola? Ecco, Enzo. Iniziamo con Enzo. Cosa volete sapere? Non lo so. Vabbè. Voglio raccontare però delle cose che sono importanti riguardo al rapporto con Umbria Jazz e il territorio americano, perché è questo che, insomma, è la cosa principale della mia funzione qui. Quando io sono arrivato a New York, e parlo di un po' più di 15 anni fa, c'era un grandissimo negozio di dischi, che oggi non c'è più, ovviamente come tanti, che sono ormai spariti, e c'era un reparto di jazz che era grande, ma due volte questa stanza, solo per il jazz. Era il famoso GNR, che era giù downtown. In questo reparto così grande, dedicato al jazz, era la manna per chi amava il jazz, c'era una sezione che sarà stata grande, non neanche quanto quel calorifero lì, in cui c'era scritto European Jazz. Tutto il resto era jazz americano. La situazione è radicalmente cambiata, e devo dire sinceramente che una parte abbastanza notevole della responsabilità di questo cambio è dovuto proprio al rapporto che noi abbiamo avuto come Umbria Jazz qui in America. Infatti, credo che, a parte alcune sporadiche esperienze della Francia o qualcosa, credo, dalla Spagna, nessun'altra nazione ha avuto un incremento annuale e un festival annuale che noi abbiamo fatto per tanto tempo, soldi permettendo, qui in America, a New York, ma anche in altri posti. Quindi abbiamo, in qualche maniera, creato la base, il territorio, per importare tutti i migliori musicisti, almeno quelli più in voga, quelli più su, insomma, anche tecnicamente italiani, qui in America. Da allora ad oggi, come dicevo, la cosa è cambiata perché? Perché il jazz italiano, ha detta non solo mia, ma altri esperti, giornalisti, eccetera, è considerato il migliore, il più creativo, il più interessante che si fa al mondo, sempre dopo quello americani, perché in questo gli americani, giustamente, devo dire, sono anche un po' sciovinisti, ma è perché ovviamente il jazz è nato qui, che vogliamo fare. Però il jazz italiano ha una fetta importante. Una fetta importante anche negli Stati Uniti, e anche per dei personaggi, c'è qui uno accanto a me, Marco Cappelli, che fa del jazz molto avanzato, è italiano e lavora qui, in America. Allora, mi fa piacere che ci sia una manifestazione così importante che non conoscevo sinceramente a Milano e che possa essere portata qui. Vorrei che ci fosse anche uno spazio anche maggiore per delle musiche come il jazz, appunto, che ovviamente, io metto già a disposizione, eh, farlo eventualmente, perché faccio anche una piccola polemica. Allora, Umbria Jazz è considerato uno dei top 4-5 festival al mondo. Se considerate che la città di Perugia ha una popolazione di 80.000 persone in tutto, 100.000 diciamo in tutto, ma nel centro storico ce ne sono 20.000, nei dieci giorni del festival estivo, abbiamo anche quello in Bernale e Orvieto, ma quello estivo arrivano tra i 400 e a volte anche i 500.000 spettatori. E' una massa enorme, ovviamente molte sono persone che vengono a sentire i concerti gratuiti, però devo dire la verità che negli ultimi anni abbiamo sempre superato noi stessi nella vendita anche dei biglietti, anche perché abbiamo fatto venire delle pop star, delle rock star, abbiamo avuto Prince, abbiamo avuto Elton John, quindi è un festival molto aperto. Il festival di Umbria Jazz è sponsorizzato unicamente con soldi pubblici e con qualche privato dalla regione Umbria, che ovviamente ci tiene moltissimo a mandarlo avanti, però ha risorse ben più limitate di quante possa averne lo Stato in generale, che per esempio al festival di Spoleto dà 4 milioni di euro l'anno. Quindi con le debite e proporzioni, non voglio fare dei paragoni di afflusso di pubblico perché sarebbero schiaccianti ovviamente, ma anche dal punto di vista culturale il festival di Umbria Jazz, questo che significa? Significa che il jazz è una parte importante sia della cultura che è ovviamente dello spettacolo ormai in Italia e ha bisogno sempre di più di essere aiutato. Perché personaggi come Bollani, come Stefano Bollani, sono personaggi ormai che hanno una popolarità che va oltre il jazz, che è sempre stata considerata una musica di nicchia, ma in certi casi non lo è più. riprova ne è che quando abbiamo fatto le cose qui a New York, sia con Umbria Jazz che io personalmente, per esempio l'anno scorso, con l'aiuto dell'Istituto di Cultura, ho fatto un concerto a Brooklyn, volutamente a Brooklyn, evitando proprio Manhattan, in teatro, con tre giovanissimi pianisti italiani dedicati al piano jazz nuovo, ed era pieno. Anche in un teatro il più bello che c'è a Brooklyn per la musica di ricerca. Era pieno. Quando facciamo il festival e ci sono abbastanza soldi dalla regione, cosa che non capita spesso in questi ultimi tempi, abbiamo sempre fatto i concerti al Birdland, che è il locale più grande e più bello di New York per il jazz, e sono stati sempre pieni. Tanto è vero che la gente continua a chiederci, fate venire, fate i musicisti italiani, perché sono bravi, ci piacciono, oltretutto sono anche simpatici, e non hanno quell'aria un po' greve che a volte hanno certi musicisti jazz. Quindi sono molto orgoglioso di questo, perché ho contribuito e continuo a contribuire, al meglio delle mie possibilità, a dare una mano all'Italia, negli Stati Uniti, in un campo che un tempo era considerato esclusivamente americano, e oggi non lo è più. Questa è la mia esperienza personale. Se può servire, io ti garantisco sindora che ti coinvolgeremo nell'evento, perché appunto la mission che poi personalmente io ho qui negli Stati Uniti è quella di creare un ponte culturale fra appunto, nel mio caso specifico, fra songwriters italiani e quelli americani. Però poi nel tempo si è allargata, appunto abbiamo visto il video di Radio Italia che ha includito tanti artisti pop italiani, ma non abbiamo nessun tipo di precusione di genere, anzi per noi è importante che si dimostri che l'Italia ha un valore vero, e ce l'abbiamo. Devo aggiungere una cosa, recentemente il ministro Franceschini si è adoperato molto, in questo senso, per una sua interesse personale, per chi gli piace, devo dire che ha fatto delle cose in Italia molto importanti, che riguardano i jazz all'Aquila per esempio, insomma sta aiutando molto i musicisti e il jazz italiano, questo ci fa molto piacere, lo volevo puntualizzare. Bene. Se siete d'accordo, sentiamo l'esperienza di Marco Cappelli, vogliamo anche capire un po', perché insomma tutti noi abbiamo avuto come dire, la bellissima, malsana idea di trasferirci qui, un po' sognatori, un po' come dire, anche un po' pionieri per certi aspetti, tu sei qui da tanto tempo, io personalmente sono molto curioso, ma credo anche gli altri, insomma di sapere. da circa 12 anni. Beh, insomma, tanto tempo. Sì, in effetti è stato un po' un incontro casuale quello con New York, perché io, fra l'altro, sono molto onorato della qualifica di jazzista, che assumo con grande rispetto, perché il mio background non è jazzistico per niente, io vengo da, ho studiato chitarra classica, la insegno, studiavo all'epoca del mio trasferimento qui, ero molto attivo nel campo della musica contemporanea, nella ricerca, e mi sono imbattuto in alcune produzioni che venivano fatte qui, in particolare nel lavoro di una casa discografica che si chiama Zadik, che è abbastanza conosciuta, gli esperti del settore, che fa capo a un guru della musica d'avanguardia, che è un sassofonista, produttore, compositore new yorkese che si chiama John Zorn. Io sono venuto qui, il mio arrivo qui è dovuto al fatto che io ho intercettato a un certo punto queste partiture incomprensibili di John Zorn per chitarra, e volevo suonarle ma non ci capivo assolutamente niente, intercettai in Italia un chitarrista new yorkese molto famoso in tutto il mondo, che si chiama Mark Ribot, lo avvicinai dopo un concerto e gli chiese se mi dava una mano a capire questi materiali per cui lì aveva incisi, registrati. Devo dire, dimostrando un'attitudine che è molto tipica degli americani, cioè una grande disponibilità e una grande affabilità, lui è stato molto disponibile, abbiamo cominciato a intrattenere una relazione tipo artistico che poi si è trasformata in un'amicizia, a un certo punto mi ha detto ma perché non vieni un mese a New York e ti faccio conoscere un po' di gente, io l'ho fatto e non sono più... Sarebbe a 12 anni. E questo è tutto... L'hai presa sul serio. L'ho presa sul serio e soprattutto perché ho trovato qui un ambiente estremamente aperto, ricettivo, ad accogliere. Questo credo che al di là delle difficoltà che ci sono dappertutto, che sicuramente sono molto tipiche di qualsiasi attività creativa. Credo che New York sia un posto particolarmente aperto e facile da approcciare se uno ha qualcosa da dire. Quindi da allora io ho cominciato tutto un percorso mio qui a New York che è finito poi... Cioè è finito, continua fortunatamente. Però si è trasformato da che facevo l'interprete perché all'epoca che sono venuto qua facevo soprattutto l'interprete come ogni musicista diciamo proveniente dalla musica classica, ogni strumentista proveniente dalla musica classica. Mi sono trovato a collaborare qui con molti musicisti nel campo della musica improvvisata collaborando con molti jazzisti ma non appunto nel campo del jazz più tradizionale. Perciò tu parlavi di un jazz abbastanza avanzato, arretrato, non lo so. Forse è molto più attirante a Fabrizio Sotti che sentiremo fra poco. E quindi interessante perché io mi sono trovato poi a essere leader di progetti personali a mio nome, cosa che non avrei mai pensato di fare. E sono contento che il Consul mi abbia presentato come compositore perché in effetti negli ultimi 12 anni la mia attività di compositore ha subito una certa accelerazione sia per la musica che scrivo per i miei gruppi sia perché poi mi è capitato di firmare delle colonne sonore di film fra l'altro italiani abbastanza importanti. Per esempio una? Ma, non so, Leonardo Di Costanzo L'Intervallo un film che ha fatto un certo clamore a Venezia nel 15 e 12 oggi stiamo lavorando al secondo film che sta girando e insomma un'attività abbastanza variegata diciamo cose che non avrei mai fatto in Italia probabilmente avrei fatto altro senza altro ma non credo che avrei avuto le occasioni di sviluppare questi miei interessi quindi tu definiresti questo il valore aggiunto per un musicista di stare a New York? Sì, questa è la parte eroica se poi volete avete tempo parliamo della parte dark perché New York è una città anche infernale per molti versi nel senso che è una città difficile sicuramente stressante sicuramente è una città che che obbliga a tenere il passo con con un'economia in continua trasformazione ed evoluzione dal punto di vista dei musicisti oggi questa è una battaglia abbastanza complessa perché nel frattempo come ben tu ci potrai illustrare se vuoi insomma il mercato della musica appunto il fatto di dire che si stia trasformando mi sembra molto incoraggiante perché pezzi interi sono completamente crollati per cui c'è bisogno di aggiornare continuamente questa propria traiettoria e naturalmente spesso si va a tentoni perché credo che è sicuramente chiaro quello che non c'è più non è esattamente chiaro quello che c'è allora certo però appunto il punto è proprio questo e mi guardavo con interesse il servizio di prima che presentava la musica italiana io ho un grandissimo rispetto ho cominciato a suonare la chitarra cantando le canzoni a 10-11 anni per cui figuriamoci la canzone del sole di Battista sono sempre stato contrario alla definizione di musica leggera quasi come dispregiativo però è vero che c'è un problema che riguarda la musica che incontra diciamo così il favore di un mainstream diciamo è quella che non lo fa qua si apre una questione molto complessa cioè ha senso di essere dobbiamo lasciare essere solo ciò che viene sostenuto automaticamente dal mercato oppure c'è bisogno di trovare dei sistemi per valorizzare e per rendere ascoltabili a un pubblico che poi di nicchia ma di nicchia cioè la Zatik di nicchia però c'ha migliaia di dischi vendeva quando i dischi vendeva ci devo dire questo che il video ovviamente presentava un video di presentazione marketing di una cosa che è accaduta in Italia che fondamentalmente era dedicato a degli investitori la nostra intenzione è quella di usare come Grimaldello magari Giovanotti ma per attaccarci dietro qualcosa che avrebbe che farebbe molta più fatica se presentata da sola quindi per questo dicevo anche Enzo che siamo ben felici ma io infatti riprendo quello che diceva Enzo sarebbe interessante che questi i meccanismi che riescono a trainare la maggior parte del pubblico del consenso così come io ritraggio ma anche banalmente Marco ma anche banalmente gli sponsors come se io ritraggio perché noi pensiamo anche all'economia di questa cosa che ovviamente se tu hai i nomi di grido ti seguono e poi ci puoi mettere anche delle cose che magari io penso che sia molto importante non sempre avviene non so penso a manifestazione di cui come sempre la mia non è una polemica assolutamente cioè io semplicemente una constatazione non so se io fossi in grado di poter influenzare le scelte di una grande istituzione italiana come il festival di Sanremo aprirei una porta enorme alla musica che non è musica necessariamente di consumo perché poi il fatto che la musica sia di consumo o non di consumo molto spesso ha a che fare con l'accesso che queste musiche hanno o non hanno al grande pubblico non necessariamente al fatto che siano però è anche molto vero io sto arrivando dritto dal festival di Sanremo sono passato da casa ho preso la valigia e sono arrivato a New York è anche molto vero che istituzioni come Sanremo sono istituzioni classiche che molto spesso è un po' come la notte degli Oscar qui devono mantenere un coté di classico e per poi perché modificare lì certe cose è un po' paradossale no ma quello che volevo dirti in questo senso volevo dire che noi a Umbiaggez abbiamo utilizzato una politica per sponsorizzare in qualche maniera concerti e musicisti che ovviamente non possono attrarre molto pubblico allora abbiamo fatto Prince abbiamo fatto Lady Gaga la gente ci ha gridato dietro siete dei pazzi non si fanno queste cose abbiamo fatto Elton John e ultimamente quest'anno abbiamo fatto Mica Mica in tre giorni tre giorni da quando è stato messo online in vendita il concerto ha venuto il tutto esaurito quel concerto lì o quel concerto il concerto di Prince il concerto di Lady Gaga con Tony Bennett ci ha permesso di poter pagare i concerti al teatro Morlacchi che ha una capienza di 5-600 posti con musicisti di grandissimo straordinario valore italiani e americani ovviamente già in partenza in perdita dal punto di vista degli incassi però se non avessimo avuto quell'introito dai musicisti ovviamente molto più popolari James Taylor questa gente qui la gente ci ha criticato a lungo per questo ma un festival importante che si propone anche di promuovere non solo la cultura ma anche lo spettacolo deve bilanciare le due cose questo è quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo è quello che pensiamo di fare anche noi qui perché ovviamente ci sono dei nomi che avranno maggiore appeal sull'audience per poi metterci dietro delle nuove o cose strane o quelle che di solito non avrebbero lo spazio e l'attenzione dei media dei giornali piuttosto che dei mezzi di comunicazione sentiamo il nostro barbuto amico ok ma mi piaceva questa conversazione che ci ha levato un po' perché comunque parlerò un attimo di me però assolutamente se posso aggiungere quello di cui parlavate voi penso che il problema di uscire ad approcciare generi che di solito sono definiti di nicchia o sono troppo avanguardistici o sono troppo complicati o sono troppo giovani perché quello è un altro di solito aggettivo negativo a un genere è anche un discorso di educare la gente cioè nel senso che comunque per poter aspettarsi che la gente apprezzi e paghi il biglietto per musicisti che magari non sono quelli che suonano sulle radio tutti i giorni sono le radio stesse che hanno la responsabilità a volte di dover iniettare questa musica adesso penso in un'era come questa qui chiunque ha meno di 30 anni e io ce ne ho di più di 30 sa che non sei più schiavo delle radio non sei più schiavo o schiavo delle playlist di qualcun altro Spotify per esempio è un mezzo per poter aggiungere qualsiasi tipo di musica più o meno non tutto anche le cose più di nicchia lì non esistono te le devi andare a ricercare comunque su altre piattaforme comunque a livello personale la mia connessione con la musica e con New York è un po' diversa perché sei venuto a New York perché sei venuto a New York ma di tutto io ho studiato pianoforte al conservatorio quindi quello era uno dei miei background la musica classica che un po' quando ero più piccolo un po' me la facevano odiare nel senso che comunque c'era sempre questa quest'idea che nel 96 quando io studiavo al pianoforte avevo 15 anni c'erano già dei computer con i quali potevi lavorare parlavo prima c'era già la musica la possibilità di lavorare sulla musica e creare dei suoni che andavano al di là di quello che poteva un pianoforte o un violoncello o una viola d'arti e io apprezzavo quella roba lì o comunque l'attratto e quello che è successo è che mi sono ritrovato la parte del conservatorio che spingeva a dirmi no quella roba che ti rovina come se fosse una droga e il resto la parte di gente giovane e comunque all'epoca faceva il dj o campionava la musica mi diceva no questa è la roba del futuro e quindi io dicevo a chi devo credere devo credere a questi che mi danno educazione o a gente che lavora con le serate facendo i dj a fine dei conti direi che la verità sta in mezzo nel senso che comunque personalmente nella mia carriera musicale senza aver studiato musica classica non avrei mai avuto la prospettiva che ho adesso sulla musica però legato a New York quando sono arrivato qui in realtà venivo da un periodo a Roma io sono originario pugliese sono nato a Taranto quando lì nell'82 e praticamente che è successo e quando sono arrivato a New York arrivavo da una situazione abbastanza interessante perché avevo finito gli studi a Roma avevo studiato psicologia e studiavo la St. Louis che è quella scuola privata che sta a Monti studiavo jazz e musica elettronica quindi era un po' il punto d'incontro delle due cose che mi erano sembrate distaccate punto in bianco c'erano professori mi potevano insegnare a usare un software per produrre musica con i concetti di musica scritta o musica letta quindi mi sentivo un po' a casa e quando sono arrivato qui avevo tutto questo background però in realtà non avevo nessuna aspettativa principale sulla città nel senso che dovevo passarci da New York per stare tre mesi e l'idea mia era di andare a San Francisco perché pensavo che la tecnologia e tutte le start up e tutto il mondo del futuro stava lì e poi però quando sono arrivato qua ho detto sai che c'è c'ho tre mesi era l'estate ho un paio di amici che studiano la New York Film Academy erano gli unici italiani che conoscevo e contattiamo li ho contattati e loro mi fanno oh ma ci aiuti a finire queste colonne sonore perché dobbiamo finire la tesi della scuola di cinema e non abbiamo un corso di suono e io venivo da Roma dove ho fatto l'OIED e insegnavo studiavo sound design ho detto perfetto facciamolo per me è tipo un piacere facciamo sta cosa e mi sono ritrovato a fare 4-5 colonne sonore nell'arco di due mesi e tutto ciò chiaramente mi ho pagato e con la prospettiva di chi voleva studiare e voleva conoscere la lingua quindi ero diciamo attivato da tutta questa energia poi però che è successo che lavorando anche senza nessuna aspettativa senza aspettarmi nessuna paga nessun tipo di supporto di retribuzione esatto quasi quello mi ha spinto a fare ancora di più di quello che potevo fare e poi la gente che circolava intorno cominciava a dire oh mi serve il contatto di un sound designer passa il contatto e mi sembrava stranissimo cioè appena arrivato da Roma questa roba mi sembrava assurda dicevo aspetta a Roma cioè per trovare un contatto devi praticamente scannarti e cercare di di riuscire a infilarti dentro un serpentone di incasinamenti qui invece quasi quasi non ce la facevo a dire sì a tutti perché era molto naturale tipo oh mi hanno detto che lavori bene voglio lavorare con te cioè mi ha sorpreso adesso come adesso penso che sia questa è la ragione per cui non sei più ripartito questa è la ragione per cui non sei più ripartito e per la quale penso che comunque ha valore un po' entrare in contatto con un'altra cultura in questo caso quella americana che dal mio punto di vista guardando un po' a quello che è stata l'esperienza l'idea di dover confrontarti con una cultura nella quale non sei parte ma cercare di diventare parte ti spinge a fare una serie di cose primo imparare l'inglese e migliorare gli americani perché se tu comunque vuoi comunicare a livello professionale a livello educativo a livello di qualsiasi livello se non parli la lingua pure in Italia cioè pensaci se uno viene da Amsterdam e non parla l'italiano dopo 5 minuti bella vai via e quindi diciamo tutto questo ha tipo spinto me a dover dover mettere in gioco poi è entrata la possibilità di insegnare e quindi quello è diventato il mio primo lavoro ufficiale che insegni lo raccontiamo a chi non lo sa sì in realtà è stato strano perché io qui ero qui con un visto studentesco volevo studiare all'Enoi U volevo fare questo corso alla Tish che si chiama ITP che è molto bello e ho fatto l'applicazione sono entrato mi hanno preso però poi costava un sacco quindi io facevo aspetta questa cosa è abbastanza delicata devo pensarci e allo stesso tempo ho avuto l'offerta di lavoro in una scuola che si chiama Dubspot che è una scuola di musica elettronica che sta qui sta pure a Los Angeles e tra pagare e essere pagato ho deciso di essere pagato quindi è iniziata questa avventura ed è stata è stata molto interessante perché lì poi diciamo anche se pensavo di parlare una lingua decente mi sono di botto reso conto che avrei dovuto avere a che fare con pubblico con studenti che erano di qui o del resto del mondo quindi quello che ha spinto ancora di più a sviluppare questa sorta di integrazione direi che una cosa che parlando prima con te che sento è stata un po' una cosa buona e anche una cosa brutta a livello emozionale è stato non mi sono circondato di tanti italiani perché primo non ne conoscevo tanti secondo mi sono infilato in una cultura e in una community che era molto più di artisti che venivano a tutto il mondo quindi per me l'appartenenza nazionale non aveva senso nel senso che comunque ero circondato da francesi tedeschi americani del sud del nord e quindi l'idea era più sei con fai parte di una community nella quale ti riesci ad esprimere meglio meglio è quasi quasi e quindi da un certo punto di vista come se avessi perso questa sorta di connessione emotiva con il paese di origine e un po' anche come dicevamo prima ero un po' disgustato dall'idea che ho scoperto che c'era un altro modo di fare un'altra cultura sia lavorativa che a livello che anche interpersonale che quella è un'altra cosa che secondo me c'è c'è una grande differenza tra come gli europei non vorrei dire solo gli italiani ma alcuni dei paesi europei sono molto campanilistici nel senso restano un po' nella loro bolla il problema vero però è che New York stessa è una bolla nel senso che poi se ti innamori di New York rischi che ti innamori solo di New York non dell'America perché l'America in sé non è New York non vorrei prendere più tempo però un'altra cosa che mi ha dato l'opportunità di capire questo è stato un tour all'interno degli Stati Uniti per una company che si chiama Ableton che fa un software di musica elettronica che mi ha chiesto visto che il mio background era di educazione mi ha chiesto di insegnare delle lecture in università americane e quindi lì di botto ti aspetta un attimo ok quindi l'America è figa ma New York è figa e gli americani poi pure loro sono campanilistici e magari le loro votano Trump guarda non ne parliamo io quando sono arrivato qui sette anni fa la gente tipo mi prendeva in giro perché diceva come avete fatto voi a votare quel personaggio lì e dicevo vabbè capita infatti dicevo voi a chi guarda ci sono anche altre generazioni quando si vota comunque quello che spero condivido con un po' tutti quelli che sono qui e chi vive in New York o chi vuole viverci è l'idea principale che ti permette di amare questa città e poi allo stesso tempo magari di essere amato apprezzato per quello che fai secondo me è anche un po' essere un po' umili nel lavoro anche nel quello che puoi fare e quello che sono le opportunità alla fine dei conti sono cresciuto in un'era dove penso la mia generazione ha vissuto un sacco di cambi sia politici che istituzionali educativi di tutti i tipi e non c'è stata mai nessuna sicurezza nel senso noi siamo dovuti passare dal vinile alla cassetta al minidisc al CD all'MP3 a Spotify al minidisc solo tu solo io io lo amavo il minidisc perché era tipo un CD dove potevi registrarci fino a un milione di volte però la Sony ne ha venduti tre di minidisc forse quattro non lo dico per esperienza personale però insomma fa piacere incontrarne uno dei quattro nel mondo che ha comprato il minidisc grande infatti sì lo apprezzo ancora ti direi la verità però alla fine dei conti una cosa essenziale è cercare di comunque vadano le cose e comunque qualunque sia il tuo futuro a livello proprio di carriera e poi a parte la musica ce ne sono tante altre riuscire a mantenere una connessione con la terra di origine e magari avere una prospettiva per la quale un giorno quello che imparo qui lo posso riportare a casa e cercare di distribuirlo secondo me è positivo che ami o che non ami il tuo paese cioè in qualche modo è responsabilità da cittadino di dover riuscire a riportare a riportare qualcosa indietro poi se il paese non lo rifiuta bella ci hai provato non ci hai provato esatto va bene e adesso invece passiamo a Roberta Di Mario che ci è raggiunto dall'Italia Roberta ha una storia interessante faccio io un piccolo intro ho anche il pregio di lavorare con con Roberta e quindi sono molto informato è una musicista classica che è basata al momento a Parma ma insomma ha un rapporto con New York di lunga durata e in qualche modo io ho voluto che lei ci fosse perché da qui comincerà invece il suo nuovo la sua nuova rinascita artistica in qualche modo perché lei arriva dalla musica più tradizionalmente definita pop quindi fra canto e composizione e adesso siamo in uscita anche con un disco dopo vi faremo vedere anche il video che si chiama Dwend in uscita di un disco di pura composizione pianistica ci interessava sapere il tuo percorso e speriamo il tuo prossimo futuro qui innanzitutto insomma grazie sono molto felice di essere qui la mia storia appunto è leggermente diversa dalla loro però un grandissimo amore per questa città la conobbi negli anni 90 alla fine dei miei corsi diciamo di studi in conservatorio volevo venire a studiare la giulia ma poi non ebbi così tanto coraggio quindi tornai a casa ma mi rimase appunto nel cuore questa città e ogni tanto ritorno proprio perché come tutti i creativi abbiamo bisogno di input di riuscire a cogliere il batticuore proprio il cuore che pulsa di questa città io sono affamatissima di cose nuove sono sempre alla ricerca appunto di qualcosa che mi possa attraversare e muovere questa città forse insieme a Parigi che è la città dove appunto abbiamo girato i videoclip sono le due città che sicuramente mi danno di più per scrivere appunto i dieci pezzi inediti del mio album che uscirà nel primavera 2017 sono tornata qui ho raccolto un po' di rumori di colori skyline insomma tutto quello che ci poteva essere quindi credo insomma che appunto anche in Il Legacy ci sia un po' di sì assolutamente anche di questa ci racconti un po' della tua formazione sì io ho fatto un percorso appunto classico in conservatorio mi sono ritrovata molto anche nelle cose che hai detto tu nel senso che in conservatorio almeno nella mia epoca negli anni 90 c'era tantissima chiusura proprio il conservatorio conservava quindi facevo davvero fatica a potermi esprimere come volevo poi ero una ragazzina proprio molto filo di perle ballerine quindi seguivo davvero le regole di quel momento poi finiti insomma gli studi del conservatorio ho preso un pochettino più di coraggio e ho cercato di capire esattamente dentro di me che cosa si spingesse che cosa insomma c'era di forte che volevo raccontare quindi da interprete insomma ho fatto un percorso concertistico tra l'altro anche abbastanza forte insomma nel panorama italiano di quel tempo insomma ero anche un nome e ho cercato invece di guardare dentro di me e cercare anche di scrivere e di comporre quindi da pianista insomma interprete sono diventata compositrice c'è una cosa che veramente mi arricchisce di più perché ogni volta che scrivo mi sento davvero migliore quindi però è stato difficile in quegli anni proprio perché anche quando scrivevo da ragazzina l'insegnante poi mi diceva ma non perdere tempo a scrivere suona Bach suona Beethoven quindi stenghi assolutamente in depressione non avendo ancora la forza di impormi poi insomma negli anni maturando ho cercato di imporre la mia natura poi c'è stato un momento dove mi sono fermata perché sono diventata mamma e quindi mi sono dedicata ai pannolini ai compiti eccetera poi insomma ho trovato la forza davvero per poter raccontare chi fossi e oggi credo di essere veramente Roberta e con Duende con questo album nuovo insomma esprimo davvero la parte più profonda di me che è senz'altro quella più vera io devo dire appunto per collegarmi all'esperienza di New York di Roberta che mi sono fatto carico di rappresentare un po' la sua musica in giro qui e devo dire che questa connessione europea e con New York ha trovato devo dire parecchie porte almeno dal punto di vista della sensibilità adesso vedremo cosa diventerà però insomma devo dire che sono rimasto sorpreso proprio dal piacere che ho riscontrato poi nei miei contatti sempre attraverso la missione di rappresentarvi qui su New York devo dire che è uno degli esempi migliori a tal proposito se avete due secondi di pazienza vi facciamo vedere un pezzettino di video e poi sentiamo la testimonianza anche del grandissimo chitarrista Fabrizio perdonami ho detto tutti grazie a 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 tutti Grazie. 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 Oltre ho avuto due carriere che ho ancora, la mia carriera di chitarrista jazz con i miei dischi, i miei tour, le mie cose che continuo a fare oggi e poi anche quella di produttore, scrittore di canzoni e ho avuto anche la mia casa discografica con la quale non avrei mai pensato che avessi potuto creare una cosa del genere che nel 2008 ho venduto alla Universal. Ho avuto anche degli artisti che sono diventati, soprattutto nel genere dell'R&B e dell'Hip-Hop, che sono considerati oggi artisti classici che hanno fatto la storia. Qualche nome? Ma ho avuto la fortuna di scrivere e produrre da Whitney Houston, Jennifer Lopez, Jay-Z, Deb Prez, parecchi artisti conosciuti. E alcuni di questi hanno parte, tipo i Deb Prez, che sono considerati gruppo, diciamo, di rivoluzionari del rap, forse più storici, che hanno iniziato il revolutionary rap. E l'ho cominciato io, che sono bianco come un morto. Però hanno fatto storia nella musica hip-hop, specialmente nella black music. Poi nel jazz ho avuto l'opportunità di suonare con tantissimi grandi artisti. E una delle mie collaborazioni di cui vado più fiero è la collaborazione con Cassandra Wilson, che è una grandissima cantante jazz, con la quale ho prodotto molti dischi, ho suonato, ho composto assieme. L'ultimo disco con lei è uscito quattro anni fa, con la quale ho anche vinto un paio di Grammys e tutto quanto. Oggi continua la mia attività, sono anche papà, è sposato adesso, da tre anni a questa parte, e continua la mia attività di concerti, di dischi. Il mio ultimo disco è uscito a giugno, si chiama Fori. E la mia collaborazione con l'Italia è pazzesco, come io essendo venuto qui, ma non rifiutando l'Italia, ma come diceva lui, qui sono stato apprezzato molto di più. In Italia era tutto un po' complicato, qui andavo anche dai mostri sacri. Io ho avuto la fortuna di suonare con Michael Brecker, con Randy Brecker, perché sono due dei più grandi sossofonisti, trombettisti, e ho fatto parte della loro band, ho suonato con la Brecker Brothers, ho imparato moltissimo da loro, e sono stato accettato. E ho detto, ok, va bene, sei simpatico, mettiti a suonare la chitarra, se sei capace, se va bene, e poi il resto è stata la storia di quel che mi è successo. La differenza che tu trovi fondamentale è il fatto che c'è una possibilità, un'occasione. Di sicuro c'è una possibilità, il musicista americano è molto aperto ed è molto meritocratico, cioè se sei capace a suonare, infatti anche oggi, come diceva Enzo, ci sono un sacco di collaborazioni fra artisti italiani e americani, e chi direi che sono praticamente, sì, allo stesso livello, voglio dire, appunto questo artista. Esatto, è meritocratica, cioè se suoni sei accettato, se non suoni no. In Italia tante volte le cose sono molto diverse, ma adesso il mio rapporto con l'Italia si è intensificato, io non ho collaborato con molti artisti italiani, ho avuto il grande onore di suonare con Pino Daniele, con il quale ho fatto anche un tour che si chiama Medina, come guest, anzi Pino manca molto, devo dire. Molto sì. E poi ho avuto l'opportunità di lavorare con Zucchero tre anni fa, che ha fatto un duetto in un mio disco in cui ho fatto dei duetti con tantissime pop star, fra le quali anche Zucchero, e abbiamo fatto un pezzo stupendo dove addirittura Bono mi ha scritto la canzone e Zucchero l'ha cantata nel mio disco, dunque è stato un grande onore. In questi ultimi due o tre anni, anche avendo incontrato Roberto, dall'Italia mi sono arrivato molto più proposte opportunità di prima. Ad oggi sto lavorando con questi due rapper, che non so se conoscete Marrakesh e Clementino, sto lavorando al loro nuovo disco. Farà Sanremo quest'anno, gli è stato annunciato l'altro giorno Clementino ancora una volta a Sanremo, che appunto si collega un po' alla rivoluzione di Sanremo per certi aspetti. Per quanto non sia così rivoluzionario, però per Sanremo, avere un rapper che rap è napoletano, effettivamente è una roba un po' fuori dal classicismo, no? Per certi aspetti, non sei convinto? No. O te? Sì. Perché tu dicevi Sanremo, potrebbe aprirsi. Sì, sentito anche il pezzo bellissimo. Questa è la mia storia e, come dicevano anche loro, è un rapporto di odio e amore. New York non sono gli Stati Uniti, è una città a sé stante. È il centro del mondo un po' per tutto, non solo per la musica. Dunque, ha moltissime possibilità e, avendo moltissime possibilità, e tutto il mondo che vuole vivere qui è anche molto difficile vivere. Io, in questi 26 anni, di gente che è venuta e è andata via, ne ho vista veramente tanta. Dunque, sono anche orgoglioso di aver esistito fino ad ora. Un ottimo risultato. Toccherebbe a me, giusto, adesso. No, io sarò brevissimo perché so che Michele, del Piccolo Caffè, ha preparato delle cose molto buone, ed è ora. No, io, insomma, io ho fatto tanti anni di discografia, sono fondamentalmente adesso un publisher musicale. Ho passato buona parte della giovinezza fra Warner Music e Sony Music, che ancora ho l'onore di rappresentare anche qui a New York. fondamentalmente la mission che ho è quella di creare delle opportunità fra i song writers italiani e quelli americani. Devo dire che l'esperienza di questi due anni e mezzo, più o meno, è stata nettamente positiva. Io faccio di solito dei camp di scrittura che durano una settimana, dove l'incontro di solito fra la creatività italiana e quella americana porta un risultato bellissimo, che conferma quello che era il mio sospetto che ho sempre avuto sin dall'Italia, e cioè che noi siamo innanzitutto molto bravi, che abbiamo un senso della scrittura completamente, forse più di cuore per certi aspetti, ma che quando si va a fondere con quella americana trova, devo dire, delle bellissime alchimie. Ci sono un po' di brani che sono nati da queste esperienze, che spero vedremo presto sul mercato, però insomma è stato faticoso all'inizio, ci ho messo quasi un anno a ingranare per trovare studi, musicisti, amici italiani che mi hanno dato imbocchi e indirizzi, importantissimi in una città così aggressiva e spesso dispersiva. Direi che al momento viaggiamo abbastanza bene, e poi insomma ho il piacere anche di condividere con voi serate come questa, e per me la conferma che quando dall'Italia sognavo di venire a fare un po' questa roba qui, tutto sommato si poteva fare, e ne sono felice. Basta qui. Grazie. Io non lo so se adesso è il caso di fare delle domande, se avete delle domande, altrimenti c'è Michele pronto, e il piccolo caffè. Mi sa che hanno tutti fame. Mi sa che hanno tutti fame. Nessuno alza la mano per qualche domanda? O pasta asciutta? Solo una, giusto per non mandarci a casa così, una sola. Nessuno. Personali o lavorative? Nel senso lavorativa. Certo, c'è. Beh, guardi, siccome appunto potrei essere musicista, ho avuto la casa discografica, capisco anche il business della musica a fondo, beh, una cosa molto pratica, l'internet cosa significa per me e per tantissimi musicisti? Beh, per me ogni centomila dollari che facevo, adesso ne faccio dieci. Tanto per iniziare. Diecimila. Dunque, se si è tolto, cioè è una delle pochissime professioni dove in dieci anni, e tu lo sai con i publishing, come, appunto noi abbiamo un catalogo, come musicista fai della musica, che rende anche, diciamo, quando è già uscita, però è suonata nelle radio, è ancora venduta in formato, diciamo, anche fisico di allora. Oggi, con questi Spotify e tutto il resto, io addirittura la mia musica, la maggior parte dei miei album li ho tolti da Spotify, li ho tolti da tutti questi sistemi, perché alcune della mia musica sono aggiunte, non so, cinque milioni, dieci milioni di volte, e poi la mia moglie Sara, dico, guarda che bello assegno, che è arrivato a 400 dollari, quando il mio publishing ha reso per anni 4, 5, 6, 7 milioni di dollari all'anno, per cui è una grande differenza. Però erano 14 dollari molto voluti, molto sudati. Per cui l'internet è a livello di scoperta, è interessante, perché tantissimi musicisti oggi, anche con tecnologia a basso costo, possono produrre musica, per cui c'è tantissima produzione di musica, in certi casi di bassissimo livello, ma anche di altissimo livello. Tanti artisti sconosciuti che sono sorprendenti. Però in questa nuova fase del business non è ancora definita, perché tutti noi stiamo soffrendo... In effetti è ancora una fase di evoluzione e bisogna ancora capire dove si andrà effettivamente. La monetizzazione da YouTube e tutto il resto, a parte due, tre, ad esempio YouTube e Vivo, non so se conoscete Vivo Channel. Vivo, se non esistesse, Beyonce, Rihanna e Justin Bieber, non potrebbero esistere. Cioè, nel senso, questi canali non potrebbero supportare. E tutto il resto, quanti sono? Milioni di artisti, fra alto livello, medio livello, basso e sconosciuti, che vivono in queste piattaforme, ma se questi tre artisti non esistessero, la piattaforma non potrebbe sostenersi. Anche l'anno scorso, il 99% degli album che hanno fatto download, non sono stati venduti, nel sistema tradizionale, anche se nuovo, sono stati venduti dall'1% di artisti. Cioè, questo dunque vi fa capire come non è più ben diviso come prima. Ma la music industry prima aveva tutti i livelli, dal basso a quello nuovo che stava diventando qualcuno, al medio a quello più alto, in tutti i generi, nel jazz, nel pop, nel classico, in qualsiasi genere di musica. Oggi c'è una discrepanza incredibile, perché nelle major, come tu sai bene, la possibilità di A&R, artistic research, che dà la possibilità a nuovi artisti, è difficilissima. Devi fare tutto da solo sull'internet, avere 10 milioni di visite su YouTube, che comunque non ci guadagni niente, per dopo avere magari qualcuno che ti viene a battere la porta dell'Universa se ti dà un contratto. Non esiste più, anche io, artisti con cui lavoro adesso, alcuni sono famosissimi e sono completamente indipendenti. Dico sì, perché noi adesso dobbiamo venirti a dare a te il frutto di questo lavoro che abbiamo fatto comunque da soli. Però è anche molto vero, dal mio punto di vista, poi le problematiche dell'industria le condivido con te, che io che faccio molto spesso scouting, devo dire che appunto la possibilità di internet mi ha dato una possibilità enorme appunto di fare scouting in maniera assolutamente eccezionale. Un esempio, ne vado particolarmente fiero, di questo ragazzo che è entrato a Sanremo e che vedremo a febbraio. Io mi contattavo spesso attraverso internet quando ero qui a New York e che io seguivo poco. Com'è? Esatto. Però io ho avuto modo anche di sperimentarlo, poi di incontrarlo dal vivo, poi fare il lavoro tradizionale. Però la fase di scouting che negli anni 90 per me era molto più manuale, è avvenuta attraverso internet e alla fine siamo arrivati in un percorso tradizionale. La questione delle royalties è ancora in evoluzione. Dal mio punto di vista condivido esattamente è quello che dice il nostro amico gezzista. Però, scusate, i nomi sono pazzi, Fabrizio, perdonate. Però è anche molto vero che il disco, come lo intendevamo una volta, ha perso la sua importanza. Dal mio punto di vista il disco è diventato ormai una piccola parte di un meccanismo molto più grande, tant'è che le case discografiche adesso propongono quello che viene definito contratto 360. Ma la riproduzione in realtà adesso è un modo in realtà per far partire una macchina che include il live, il merchandising, che include l'esposizione, lo sfruttamento parallelo, tant'è che il publishing che io rappresento in realtà è diventata l'unica costante della discografia dalla quale non si scappa perché la musica poi sarà liquida nei fustini del Dash piuttosto che sugli amici che ti doppiano la cassetta. Ma è vero che dal copyright non scappi se lo rispetti. Poi se fai il truffatore è un'altra cosa. In poche parole, Enzo, per spiegarti nel nostro mondo. diventa fare un disco e anche diventare attraverso il disco conosciuto non è più come una volta che era una fonte di rendita cioè vera. È solo per poi fare i concerti dal vivo ma ad esempio nel jazz non c'è molto, ci sono solo i concerti perché non è che sia una pop star che per cui non c'è un sistema che ha potuto bilanciare questa cosa è solamente sparito e si vendono i dischi e i concerti e basta. Secondo me quello che hai detto è tutto verissimo nel senso che comunque sto affrontando adesso questo tipo di percorso appena messo insieme tutte le carte per aprire un'etichetta che però ha una prospettiva completamente diversa perché sto partendo dal presupposto che comunque la musica non vende e tutte le royalties che venivano collezionate una volta non vengono collezionate più nel stesso modo però c'è un aspetto interessante di internet come medium a parte quello delle vendite e quello della fruizione comunque puoi andare alla ricerca di roba puoi trovare delle cose underground in mezzo alla Turchia e scoprire artisti c'è anche un discorso di fruizione e vorrei tornare un attimo a quella parte comunque del mio lavoro dell'educazione cioè pensare che ci sono musicisti o artisti o aspiranti musicisti persone diciamo così giovani che magari non hanno l'accesso i mezzi i soldi e a livello locale proprio non hanno le scuole fisicamente nel mezzo dell'Africa per dirti che riescono a fare dei lavori fantastici e poi riportarli in mezzo alla nostra cultura dell'Ovest avanzatissima piena di soldi e tutto quanto l'anno scorso sono stato invitato dalla Red Bull Music Academy che è comunque un ente internazionale molto importante adesso per quanto riguarda le musiche più innovative se vuoi l'elettronica l'hip hop anche il mio lavoro non so se l'avevo spiegato prima ma io lavoro anche con la tecnologia le luci il suono i sensori e questa serata riportava praticamente tutti artisti africani che nessuno conosceva fino a quel momento che facevano delle cose fantastiche io ho sentito le cose su quel palco che ero completamente sconvolto mi chiedevo come mai da nerd della musica elettronica non li conoscevo e poi mi è venuto anche lampante l'idea che magari ce ne sono altri migliaia di artisti come dici te ci sono anche migliaia di schifezze che vanno in giro su internet il problema quello succede per tutto anche per le news guardate adesso sta succedendo con la CNN non ha la capacità nemmeno di riuscire a dare informazioni chiare perché ci sono altri 500 fonti che mandano informazioni finte cioè quello che sta trasformando un po' tutto che sta trasformando noi e che prima si cresceva con l'idea che ok faccio il mio lavoro poi mi affido a questa rivista e a quest'editore e a quest'altro che mi scrive le cose così a quest'altro informazioni adesso tu diventi il curatore di te stesso che comunque ci innalza a livello intellettuale perché devi conoscere di più devi saper schimmare come si dice in inglese lo schifo però allo stesso tempo ti permette di essere di avere questa democrazia dell'accesso sia dal punto di vista del fruitore che dal punto di vista del creativo cioè senza internet noi non avremmo distrutto il mercato musicale prima perché purtroppo è successo però non avremmo nemmeno avuto i cambi generazionali però io vorrei aggiungere una cosa che mi preme moltissimo a proposito di internet si colpevolizza sempre internet però io credo che dal punto di vista della fruizione della musica sia anche una questione di tra virgolette crisi di valori culturali che investe in realtà molto più della musica quindi è anche molto vero che l'affetto e l'affezione che noi avevamo per un disco l'attesa il collezionismo la grafica l'artwork e tutto il resto è una cosa che in realtà è andata un po' come dire anche a sparire per una sorta di io non so se chiamarla crisi non sono certo di questa cosa però sicuramente è molto cambiato questo tocca anche un po' i libri tocca il cinema tocca tutte le forme diciamo così di arte o di espressione artistica quindi in realtà la musica è quella che molto spesso viene colpevolizzata perché è quella più evidente cioè che il ragazzino scarica gratis o in maniera pirata piuttosto che si parla meno poi degli altri settori ma in realtà c'è quindi secondo me è una tra virgolette crisi generale se di crisi si può parlare io parlerei di evoluzione perché sono abbastanza anziano da essere stato presente quando è cambiato dal vinile al cd e tutti dicevano sparirà tutto e morirà tutto e invece non è morto niente è successo anche con le cassette che sono sparite tutto sparirà in realtà c'è sempre giustamente una forma di allarmismo e di protezionismo su quello che noi conosciamo e che è uno spavento su quello che invece noi non conosciamo e quindi definiamo si stava meglio quando si stava peggio ma in realtà non è così la tentazione di chiunque sia della nostra generazione almeno più o meno e che ci ricordiamo ancora il telefono grigio con la rotella è quella di prendersela con internet io penso che sia un approccio molto sbagliato però come tutte le cose bisogna secondo me imparare ad usarlo quello che tu dicevi a proposito di una crisi generale mi fa ricordare una conversazione molto interessante che io proprio a proposito di difficoltà di carriere musicali in questi tempi ebbi con un musicista straordinario che è passato un periodo qua a New York Mauro Pagani forse molti lo hanno avuto modo di conoscere dove c'è a che fare qui a New York col quale conversavamo su questo argomento e lui mi diceva guarda io gli raccontavo che purtroppo passa un sacco di tempo a scrivere email quando invece potrei dedicarmi a scrivere a suonare a studiare il mio strumento e lui diceva guarda è veramente incredibile io mi rendo conto di questa cosa io personalmente non ho mai scritto una lettera in vita mia ma non perché io sia un genio sia bravissimo semplicemente perché la mia generazione si raccontava attraverso la musica vabbè lui mocia a sua moglie vabbè però la verità è che secondo me è molto vera questa frase cioè una generazione la sua negli anni 70 suppongo luciferisti a quell'epoca lì che si raccontava attraverso la musica non prevedeva che uno debba spendere tutta questa energia volendosi esprimere a trovarsi il publicist a sfondare a riuscire a farsi ascoltare qualche giorno fa parlavo con Melvin Gibbs che probabilmente tu conosci che conosceva Prince quando era ragazzo diceva quello Prince non è che cioè ce ne erano tanti come lui lui però era il più bravo a convincere gli altri di essere un genio e questo è molto interessante perché perché è la comunità che ti supporta una generazione che si racconta attraverso la musica dalla quale parlava Pagani secondo me è un fatto chiave questa relazione con la comunità nell'epoca di internet è una cosa che si è molto trasformata non che non esista ma appunto è diventata virtuale come tale enorme e distribuita globalmente con enormi potenzialità però d'altra parte è molto meno diretta nella sua umanità e nella sua quindi è tutto un fenomeno da studiare io personalmente mi sento soltanto di dare a me stesso e a tutti un consiglio quando cliccate su un file di youtube ascoltatelo tutto questo zapping continuo che tutti quanti facciamo essendo multitask con 3000 sistemi che ci stimolano nella comunicazione nella fruizione vedo che il console ha subito rintascato il cellulare ma è interessante questa cosa perché secondo me questo è un dato molto importante io cerco di fare un auto training su questa cosa qua è difficile perché l'istinto è quello di passare da una cosa all'altra visto che la velocità è consentita ma l'idea di sedersi su una poltrona e ascoltare interamente come si faceva una volta con i dischi anche un file di youtube secondo me è la chiave per imparare a usare bene questo mezzo poi vedremo cosa ci riserva il futuro è verissimo questo perché si ascolta molta più musica oggi di quanto si ascoltava prima ma come quello è il problema come si ascolta allora ieri sera ho visto un film che è uscito qualche tempo fa che era molto interessante su Phil Spector con Al Pacino e Ellen Mirren e c'è una scena stupenda perché Ellen Mirren che fa l'avvocatessa di Phil Spector quindi Al Pacino ai giovani avvocati a un certo punto tira fuori una cosa gli fa cos'è questo è il tondino che si usava una volta per usare i 45 giri buio totale che era un tigione non sapevano proprio che cos'era poi a un certo punto tira fuori un 45 giri e uno fa io lo so è un vecchio software che si usava qualche anno fa capito ecco questo è il cambio però il vinile sta tornando e poi è una cosa un po' da sì perché la qualità del suono è più interessante prima ho avuto l'opportunità di salutare una persona che lavora per un'etichetta che forse si correlaziona con i vinili un po' di più nel mondo della house techno è anche più comune adesso avere un'etichetta piccolina che non ha nessun obiettivo di fare i soldi però comunque ti fa una stampa di vinile ogni due mesi e cerca di portare il miglior prodotto e stamparlo sul vinile perché i dj ancora adesso apprezzano l'idea di andare in giro col vinile poi dipende da dove lo fai se lo fai nel mezzo di un paesino sperduto in Italia può essere che sia i mezzi per comprare questi vinili non ce l'hai e magari non c'hanno nemmeno più giradischi però a New York per quanto riguarda tutti i club che si rispettano ci sono sempre comunque i 1200 della Technics 1200 e ci sono i dj poi sei tu come dj che decidi cosa fare è lì che vedi anche un po' la differenza tra un dj che fa questo lavoro da 20 anni e che ne va fiero e si e che poi va nel negozietto a Brooklyn lì a spulciarsi il vinile che è uscito in 100 copie capito diventa una cosa chiaramente di nicchia nel senso che comunque a livello di mercato non ne possiamo nemmeno parlare parlando di formati dunque cd vinili cassette che tu dicevi che hai vissuto tutto il cambiamento anch'io l'ho vissuto tutto il cambiamento anche nel modo di registrare i dischi da farli analogici su due inch tape e tutto quanto allora io ho vissuto personalmente questa cosa quando la mia etichetta è iniziata a essere distribuita della universal del 2001 Douglas Morris che era il CEO della universal ci diceva sempre guardate non vi preoccupate perché il fisico il prodotto fisico non morirà mai io un giorno ero molto giovane avevo 26 anni gli ho detto guarda secondo me la apple e steve job hanno il software e l'hardware del futuro siccome la universal allora aveva quasi 60% del mercato della musica ho detto tu che sei capo del 60% della musica che si ascolta al mondo dovresti andare da steve job e dirgli senti tu che hai creato questa nuova cosa facciamo un deal così noi dall'interno della music industry possiamo spiegare alle persone ok ci sono i cd ci sono i dischi e c'è questo nuovo modo che è un mp3 che però lo devi comprare che però ha un nuovo modo di acquistare la musica e di consumarla non che è diventata una cosa gratis lui mi ha tirato dietro qualcosa dal tavolo mi ha detto sparisci guarda con tutti i dischi che vendi non venire qui a spiegarmi niente a me get lost mi ha detto una parola molto peggia di get lost anyway nel 2012 siamo a sono stato ancora invitato una volta a questo party di Natale della Universal e Doug Morris che oggi non è più adesso si adesso è in Sony ha detto ammetto che pubblicamente l'ha detto eravamo io e lui seduti così che se io ti avessi ascoltato quel giorno oggi la music industry dall'industria quando ci siamo parlati che era 9 bilioni di dollari all'anno e oggi è meno di 2 bilioni non sarebbe successo perché lui aveva il potere di farlo dunque io la colpa la do alla music industry perché l'ho vissuta sulla pelle ed ero lì perché è la music industry che non ha educato è come dire dalle cassette si passa i cd però io i cd te lo do gratis e la cassetta cioè non esiste capisci doveva essere l'industria invece l'industria ha perso tutto perché adesso anche con social media l'industria della musica non ha più niente io voglio soltanto dire che è relativamente vero perché poi chiudiamo perché è tempo di chiudere anche perché annuiamo però vorrei dire soltanto questo che è anche vero che le telco c'è le famose compagnie che hanno spinto moltissimo in Italia per ditte si puniva il ragazzino che è beccato in provincia di Caserta in cameretta a scaricarsi il file ma nessuno diceva che stava nascendo fast web e che negli spot diceva scaricato il concetto che era un modo per dire ai ragazzini se tu fai l'abbonamento con fast web che va a 7 milioni di giga al secondo puoi scaricarti i film e la musica negli anni in cui quindi è vero che l'industria musicale ovviamente ha le sue responsabilità ma è anche vero che c'è stato un mondo intorno che ovviamente aveva proprio interesse ad avere le connessioni quindi per allettare il ragazzino dovevi dirgli che si scaricava ma è un discorso importante però detto questo è tempo di brindare a Natale grazie a tutti e buon Natale a tutti grazie a tutti grazie a tutti